Questa poesia che ho scritto è ovviamente riferita alla situazione che stiamo vivendo attualmente con questo benedetto Covid-19 che sta facendo, sta ammietendo vittime in modo tremendo. Si intitola Una fila di camion. Una fila di camion e non c'è nessun piccolo uomo con in mano una borsa della spesa che possa fermarli. Non si possono affermare per dove sono diretti. Una fila di camion lunga come la vita di tanti che non capiranno, che non avranno le forze per farsene una ragione. Una lunga fila di camion, una lunga fila di dolore.